Episodio 7 parte 4, la fine della materia. Singularity sta cercando di caricare contenitori di Dark Mirror sul treno merci dell'IT e di fuggire. Se non lo fermo li farà esplodere e distruggerà mezza Europa. Liene e Blake sono ancora sul posto, non posso permettere che accada loro nulla di male. Singularity ha letto il mio dossier, ha letto i miei file. Crede di potermi provocare con il mio passato. Forse ha ragione. Non importa cosa sia di preciso, il progetto Dark Mirror è diventato una metafora. Vado e vedo un riflesso scuro di me stesso, una singolarità e una sfera che consuma tutta la materia. Da essa non sfugge nulla, neppure la luce. Singularity mi ha fatto di nuovo precipitare in questo posto buio dentro di me, dove non c'è altro che morte e la materia si dissolve. Ma la sua vita finisce qui. Uncchio. Non ve ne andrete senza di me, spero. Ho letto il tuo dossier, Logan. Devo dire che sei più impressionante di quanto si dice. E io ho letto i tuoi. Il tuo nome in codice calza a pennello, non è così? Cranio compatto. Nulla ne può uscire, nemmeno l'intelligenza. Uccidetelo. Hai sempre gli stessi errori, Logan. In quanti ti hanno tradito da quando sei arrivato all'agenzia? Prima c'è stato Benton, ti ricordi di lui? E dai vecchi tempi, guarda eri lo scagnozzo di Markinson. Quanta gente hai fatto fuori, nella cattedrale? E hai insegnato i tuoi uomini a essere molto leali, vero Logan? Jason James, ad esempio. Te ne servirebbero altri come lui, non credi? Come ti sei sentito quando hai scoperto di essere sempre stato la puttana di Vincent Hedden durante l'affare Siphon Filter? E l'adorabile Mara Adam. Come ci si sente a farsi prendere il culo da una donna? Ho visto anche che ti sei tenuto stretto Gary Storm, anziché mandarlo all'ospizio. Veramente lo devole. Ah, poi c'è tutto l'affare Niculesco. Come ti sei sentito quando hai messo a repentaglio l'agenzia e hai il tuo team al completo per rincorrere la tua ossessione. Vedi che ti conosco, Logan. Dopotutto siamo simili noi due. Forse i nostri scopi sono diversi, ma i mezzi sono identici. Sicuramente non devo colpire quella bomba. Dai, madonna mia, tre ore e mezzo. Allora, c'è un problema di fondo che è... Ma perché non si gira la telecamera? Ma perché non si gira? Ma porco di... No, vabbè, madonna. I movimenti sono un qualcosa di inconcepibile. Che cazzo fa, Dio? Madonna, veramente ragazzi, è... E sta cosa è inconcepibile. Cioè, i movimenti sono un qualcosa di tremendo. Cioè, sanno parola. Cioè, daichi. Ho sono partout. Ho friendo,酒... Ho periodo. Ho, ho, ho. non è pieno, è pieno di nemici madonna mia veramente anche perché poi è il menu brutto per cambiare le armi guarda guarda guarda, che non funziona, non funziona il corpo a corpo quindi con lui madonna di dio ora dove cazzo sono le granate mp muoviti madonna mia no veramente ragazzi sto gioco per me è stata un'esperienza incredibile veramente che esperienza terribile pensi che questa sia la fine vero? sai perché lo chiamano dark mirror? non mi interessa singularity, è finita non dimenticare che conosco bene le tecnologie dell'agenzia Logan, so tutto di te, più di quello che sai tu stesso, il tuo fucile per esempio no dico sul serio i tuoi dardi a gas x 34, chi credi che le produca? chi credi che fornista tutte le tue armi? guarda nello specchio, Logan! guardati riflesso nello specchio oscuro, il dark mirror, detto no questo è per Edison, non mi serve uno specchio oscuro per vedere chi sono o di che cosa sono capace, singularity? lo so già Teresa, è finita, singularity è morto ho sentito Gabe, ho sentito tutto, una squadra di liquidatori dell'agenzia sta arrivando lì digli che non avranno molto tempo, vado a cercare lì a nella piccola non mi parlerà mai più ne ho passate tante continuava a chiedere di sua madre, non sapevo che dire non è colpa tua, hai sveglia quanto lo era Edison ne hai passate tante piccola andiamo a casa eh ma il fattore che Gabe, madonna mi è tutto inceppati Gabe adotta? non c'è dubbio, in pratica il progetto dark mirror è quello che il presidente chiamerebbe un'arma di distruzione di massa o più precisamente, di sterminio di massa quando la cocleantes amazonica viene modificata con geni della famiglia del toxico dendrum se c'è ne un estratto da cui si può sintetizzare un agente nervino molto potente gas nervino è davvero di questo che stiamo parlando il progetto dark mirror è un gas nervino una specie ma credetemi, non si è mai visto un agente nervino come questo quasi tutti i nervini hanno una tossicità limitata perché si disperdono in fretta nell'aria il progetto dark mirror è diverso in forma gassosa la gente si lega alle molecole di ossigeno in questo modo il gas può restare nell'aria per periodi di tempo molto lunghi così si diffonde ma non si disperde no, anzi diventa sempre più letale senza l'intervento di Hargrove la sezione rossa avrebbe già potuto sintetizzarne abbastanza da uccidere mezza Europa la sezione rossa avrebbe già potuto sintetizzarne abbastanza da uccidere mezza quindi è davvero morta 35 anni aveva con il fiore che giustamente è stato sintetizzato che ha messo oddio ragazzi è stata un'esperienza un po' brutta se devo essere sincero perché recuperare la saga di Siphon Filter per me è comunque un qualcosa di bello perché io ci sono cresciuto con Siphon Filter però diciamo che questi giochi che sono stati portati da PSP su console hanno ovviamente un porting orribile letteralmente un porting orribile c'è poco da dire carino ovviamente la storia ritornare nei panni di ovviamente di Gabriel Logan fare tutto quello che si è sempre fatto però veramente brutto dal punto di vista di gameplay ora ci sarebbe anche Logan Shadow che in teoria dovrei recuperare ma non lo so ragazzi cioè aspetterò un po' di tempo prima di metterci mano perché voglio riprendermi un attimo da questa esperienza ho già in mente cosa potrei effettivamente iniziare a portare perché in realtà un'idea ce l'ho un'idea ce l'ho però vediamo se riesco effettivamente a realizzarla come vorrei realizzarla io comunque vediamo i titoli di coda vediamo se c'è appunto dopo i titoli di coda l'introduzione a questo punto a Logan Shadow perché tecnicamente il capitolo dopo dovrebbe essere Logan Shadow a meno che Logan Shadow è stato fatto prima ma non credo e infatti tecnicamente ci sarebbe se fa un filter se fa un filter 2 3 poi The Omega Strain che in realtà non sono riuscito a trovarlo poi Dark Mirror e Logan Shadow quindi Logan Shadow che andrebbe a chiudere poi successivamente il tutto ma The Omega Strain che cosa sarebbe? ah è per PlayStation 2 addirittura ah vedi il cui protagonista non è Gabe Logan ma si deve creare un personaggio ah ok quindi è una cosa diciamo è quasi come se fosse uno spin off in teoria anche se però nella copertina c'è ecco vediamo qua cosa c'è adesso non devi dire a Dio eccola te l'ho detto ma come chiamolo come hai aspetta lascia che ti spieghi ready non c'è niente di più facile che simulare una morte me l'hai insegnato tu perché mi hai mentito perché mi hai fatto credere di essere morta non ascolta io non volevo mentirti mamma ma perché ci metti tanto oh signor Logan ciao tesoro ti avevo detto di aspettarmi in auto sono felice di rivederti Blake e voglio dirti una cosa sei la bambina di dieci anni più coraggiosa che io abbia mai visto grazie signor Logan ma io ho dodici anni non dieci ok tesoro fila in macchina ahia come dodici anni quindi è la figlia di Gabe mamma sbrigati dodici anni perché non mi hai detto che è mia figlia lei è tutto quello che ho non mi fido di nessuno lo capisci Gabe no è mia figlia Gabe hai visto cosa ti ha fatto la tua maledetta agenzia puoi davvero rischiare di coinvolgerla in tutto questo mamma andiamo oppure vorresti lasciare l'agenzia lasciarti questa vita alle spalle andiamo mamma Gabe lasciaci andare addio signor Logan addio quindi sta abbandonando definitivamente sua figlia addio piccola perché lui giustamente l'agenzia non la lascia figurati se lascia l'agenzia wow direi che effettivamente questo bel plot twist ci sta perché ovviamente lei col fatto che ti diceva che la figlia avesse dieci anni tu giustamente dicevi vabbè non può essere mia figlia perché appunto i dati non coincidono ma appena dice dodici anni è esattamente il periodo di tempo in cui lei poi se n'è andato dall'agenzia lo disse Logan quindi quella è veramente sua figlia era veramente sua figlia beh mi dispiace Gabriel Logan che tu abbia dovuto scoprirlo in questo modo però vabbè diciamo che il prossimo capitolo sarà Logan's Shadow per chiudere appunto la saga di Gabriel Logan ho visto che gli altri Siphon Filter o per meglio dire The Omega Strain non presenta Gabriel Logan come vero protagonista per cui effettivamente se lo recupererò lo recupererò magari più in là come extra mettiamolo così per cui il prossimo dovrò farmi coraggio ma sarà Logan's Shadow che ha praticamente lo stesso stile di Dark Mirror quindi purtroppo dovrò effettivamente vedere se l'hanno migliorato o se rimane praticamente identico detto ciò ringrazio chi ha visto la serie fino alla fine e noi ci becchiamo ovviamente con la prossima bye bye